Mi sono divertito di andare a vedere che cosa vede Renato Raschel, da Rivederci Roma, che è 1956, ora te lo dico se vuoi, poi cosa vede anni Sessanta, Armando Trovaioli, nella mirabile Roma non fa la stupida stasera, e che cosa vede negli anni Settanta Antonello venditti Roma Capoccia, indicano le opere d'arte, sta a sentire che cosa vede Raschel, che è interessante, confrontato, prima di tutto i tramonti, il tramonto romano, poi vede i fori e gli scavi, però la fontana di Trevi, poi interessante la trattoria a Squarcerelli, cioè non a Roma, i castelli romani. Poi ricorda Bartolomeo Pinelli, tra tutti gli artisti romani, Bertolomeo Pinelli, poi Via Margutta e la Trinità dei Monti, questa è la Roma di Renato Raschel negli anni Cinquanta, in un racconto carino di una turista inglese che fa innamorare, eccetera, il romano gli promette che ritornerà a Roma, butta la monetina e un ragazzino ruba la monetina. Quindi niente colossale e niente sampito. Niente colossale, anni Cinquanta, gli anni Sessanta, nel momento della massima, no, non massima, di una forte depressione culturale, in senso lato, a mio avviso mirabilmente semplificata nella canzone di Trovaioli, sempre citata nelle sue biografie, ma tutto sommato forse non così bella. E cosa ci trova lì? C'è soltanto qui, Roma ha la luna, le stelle, il ponentino e i grilli che fanno cri-cri. Basta, non c'è niente, non c'è un monumento, non c'è un cavolo. Veniamo a Antonello Venditti, anni Settanta, 1972, Roma Capoccia. È già il titolo, eh? No, vabbè, però, canzone peraltro, a mio avviso, ben più potente e bella della Melenza e insopportabile per me, Roma non fa la stupida stasera, comunque. E non superiore, però al capolavoro, a rivederci Roma, se posso permettermi. Canzone mirabile, veramente. E allora che c'è il gigante di... Vai veloce perché c'è più poco tempo. Allora, il Fontanone, anche lui il tramonto e la pioggia, e poi i Sette Colli, il Colosseo, il Cupolone, le carrozzelle e le finestre. Quindi è già adombrata l'idea, che poi condividiamo tutti, che comunque quello che è bello di Roma non è guardare le opere d'arte. Non è niente. Guardare Roma. È stare sulla terrazza. È guardare Roma. Sulla terrazza. Questa è interessante. Cioè, la percezione, no? Cioè, che è bella la terrazza.